Obiettivo 1000 sciarpe. Si chiama Vola Alto, una sciarpa sul Bernascone, il progetto promosso dall'Associazione Varese in Maglia e che desidera finanziare l'apertura della nuova sede della comunità residenziale per minori Casa Sant'Antonio di Bizzozzero. Partecipare è semplice, basta realizzare una sciarpa della misura di 26 x 160 cm e consegnarla entro il 20 ottobre al centro commerciale Le Corti. Domenica 20 novembre le sciarpe verranno messe in vendita in piazza San Vittore dalle 10 alle 17. Il 20 novembre vi aspettiamo tutti in piazza San Vittore, venderemo le sciarpe preparate da Varese in Maglia con il ricavato. Permettiamo l'apertura della nuova sede della comunità residenziale per minori Casa Sant'Antonio. C'è già una sede che può accogliere fino a 10 minori nel quartiere di Belforte. Apriamo il prossimo autunno una seconda sede nel quartiere di Bizzozzero. È importante dopo che la cooperativa San Luigi ha acquisito questo immobile e l'ha ristrutturato, adesso renderlo abitabile per questi minori. Quindi dobbiamo provvedere all'arredamento ma anche un po' alle attività sportive o laboratoriali per questi adolescenti in modo che possano impiegare bene il loro tempo. Io sono entusiasta di far parte di tutta questa grande squadra perché quest'anno queste sciarpe, la vendita di queste sciarpe serviranno per aprire una casa per gli adolescenti. Gli adolescenti devono essere il fulcro di tutti noi e per tutti noi nei prossimi anni perché evidentemente sia la pandemia poi la guerra hanno reso poco stabile la quotidianità di questi adolescenti e quindi è necessario dedicarsi a loro e quindi sono veramente molto contento che tutto questo progetto possa essere destinato a loro. Un'iniziativa importante questa fatta dalle donne in maglia di Antonia Calabrese per sostenere questa comunità di Don Marco Casale, una comunità che va a rispondere giustamente ad un bisogno dedicata a preadolescenti e adolescenti e credo che sia un ulteriore servizio che viene offerto alla città di Varese. Vi invito tutti a partecipare e a portarci la vostra sciarpa. Noi siamo al piano menu 2 centro commerciale Le Corti. Se volete unirvi a noi siamo felici di portare insieme un aiuto concreto alla comunità dei minori di Don Marco Casale.